Ciao a tutti e benvenuti a questo incontro valido per i quarti di finale. Un saluto da Pierluci Pardo e Stefano Nava, sperando che sia una bella partita. Gli ingredienti ci sono tutti. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Sembrano volersela giocare a spazio, prova! Ma c'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare la colpita però davvero male, eh? Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Tonco verticale interessante. Attenzione! Sicuro il trappetto del portiere che va in presa. La difesa spazza via il pallone. Ci sono metri a disposizione. Ha perso il pallone. Indirizzo verso il primo palo. Buon cross! Ma il portiere non si fa sorprendere. Buona l'idea qui. Ha spazio davanti a sé. Si accentra. Il tocco dentro. Ci ha provato qui l'attaccante, Martino. Troppo debole. Era nella posizione per concludere la rete. Ma ha sprecato malamente. Parte il tiro. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione. Ha impattato bene la palla. Ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Può correre lungo la fascia. Occhio attraversone. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro. Se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Baragna metri verso l'area. Palla in fallo laterale. Klein. Comodamente recupera il pallone. Servest. Grünwald. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Servest. Grünwald. Difesa bassa. Qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Si porta in mezzo. Occhio alle sovrapposizioni. E il portiere recupera il pallone. Potrebbe grossare sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Le squadre scendono in campo sotto una fitta nevicata. Non sono le condizioni ideali queste, Stefano. Eh no, Pierre. Giocare la palla e mantenere l'equilibrio su questo terreno è stato parecchio complicato. Servest. Grünwald. Servest. Con questa neve non è facile il tackle. Occhio al contrabbiene qui. Klein. Servest. Grünwald. Ha spazio per avanzare. Premia la corsa sulla fascia. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. A metri davanti a sé. Attenzione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Grünwald. Ci saranno da recuperare due minuti. Un solo gol separa le due squadre dopo il primo. Tutto pronto. Comincia la seconda frazione. Servest. Può avanzare a spazio. Supera il difensore. Grande tempismo da parte del difensore. Intervento spettacolare. Ha disputato una buona prova nei primi 45. Certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Occhio al tiro. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. Ottimo intervento senza fronzoli. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Perfetto oggi le passaggi. Grünwald. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Hanno provato a sfondare perché... Occhio a questo lancio. Palla dentro. Occhio. E c'è la conclusione. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano. Non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Una gara molto combattuta. Impossibile adesso azzardare il pronostico. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Servest. Giro palla. Parte il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare la colpita, però davvero male, eh. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Palla che finisce in angolo. Eh, senti i tifosi. Fremono. Potrebbe essere l'occasione giusta per il prossimo vantaggio. Buono l'anticipo del difensore. Può metterla in mezzo. Pallone che è uscito, sarà rimesso dal fondo. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Potrebbe crozzare. Provano a servire il compagno di testa. Salgono anche i difensori su questo corner. Un pericolo in più per loro. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Svento è il pericolo e concede la rimessa. Comoda uscita del portiere. La mette in mezzo. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Palla in out. E dunque calcio ad angolo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Prova. Palla respinta dal difensore. E si salva con un miracolo. Per un attimo Fiera. Con un giacolio di lato e gol. Ancora un passaggio perfetto. Prova in porta. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Matteo, quante minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a porto campo. Ne sono passati 85 di minuti. Ne restano altri 5 da giocare. Grazie a Matteo Barzaghi. Lo tiro nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Arriva la segnalazione di fuori gioco. Tutto fermo. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Buono l'1-2. Occhio a questo lancio. Bella la verticalizzazione. È arrivato il gol del vantaggio proprio nel finale. Devono mantenere i nervi saldi. Ancora per poco se vogliono portare a casa questa vittoria. Ormai il più è fatto. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria. Vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione. Ottengono il vantaggio quando manca poco al termine. Adesso diventa durissima per gli avversari. Si rovesceranno in avanti disperatamente. Con davvero poco tempo a disposizione per due giri. Andiamo a porto a cappo alla Matteo Barzaghi per sapere quanto manca a termine del match. Ultimo giro di orologio. 60 secondi allo scoccare del novantesimo. Grazie. Ovviamente se dovessero esserci novitare. Chiedici pure la linea. Si imbola il difensore. Prova ad andare. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno.